Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Zombicide Chronicles manuale del gioco di ruolo, finalmente, perché ero curioso già dall'annuncio, l'aspettavo da un po' di tempo, del gioco di ruolo basato sul famosissimo gioco da tavolo Zombicide, di cui io e mia moglie abbiamo praticamente tutto quello al momento uscito, perché uno dei nostri dungeon crawler, o comunque giochi da tavolo, d'azione preferiti, in questa edizione che vedete qui davanti in italiano, a cura di Need Games, che ovviamente colgo l'occasione per salutare ancora una volta e per ringraziare per tutta la collaborazione che c'è stata finora. Gioco della Cmon è veramente uno spettacolo e vi preannuncio una cosa, hanno avuto, secondo me, un'idea veramente geniale per avvicinarlo al gioco da tavolo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Zombicide Chronicles Zombicide Chronicles, edizione italiana a cura di Need Games, è il gioco di ruolo di Zombicide. Niente di più, niente di meno. È un gioco che non va preso mai troppo seriamente, perché non è, per andare a parlare sempre di giochi zombie, non è un'ambientazione tipo alla Walking Dead, alla 28 giorni dopo, o, citando appunto un gioco di ruolo, che lo sapete è il mio gioco di ruolo preferito, non l'ho mai nascosto, Sine Requie, non è un Sine Requie in ambientazione cattiva, cupa, dove c'è da aver paura anche di mettere il naso fuori di casa, perché ci potrebbero essere altri sopravvissuti, o degli zombie sotto varie forme che provano ad ucciderti. Zombicide, se lo dovessi paragonare a qualcosa, è più un film dell'asylum, è più uno Zeta Nation, per capirvi, dove lo zombie è soltanto un problema, non è la fine del mondo, la fine dei tempi, un problema insommortabile, è un problema di tutti i giorni che va affrontato, e di cui ormai i nostri avventurieri ne sono oltremodo esperti. Ho preparato qui davanti dei dadi da 6, perché è l'unico dado che fondamentalmente si va ad utilizzare in questo gioco, vediamo tra l'altro se riesco a metterlo, che rimane in piedi e non cade, sembrerebbe di sì, è l'unico dado che serve nel gioco, e conviene prendere diversi dadi da 6 in diversi colori, perché il regolamento del gioco, che è lo stesso di Zombicide, praticamente versione scatolata, ora infatti vi dico, secondo me l'idea geniale che hanno avuto, veramente molto carina, il dado da 6 vanno differenziati per colori, perché il tiro va sempre fatto sulla caratteristica più un secondo tratto, che messi insieme in una tabella, magari ad esempio tratto del combattimento e caratteristica di forza, incrociati danno l'abilità di lotta, quindi il valore del primo più il valore del secondo sommati insieme danno quell'abilità, quindi se si va a fare un tiro di sparare, magari si andrà a prendere agilità e mira, cose del genere, si va a vedere quant'è 3 da una parte e 3 da un'altra, quindi l'abilità è a 6, si vanno a tirare i dadi, e regola vuole che quando si tirano i dadi del colore, facciamo caso che i dadi di base sono quelli verdi, se io ho 6 nell'abilità, fino al sesto dado si tirano quelli normali, dal settimo in poi, arrivando fino se non erro a 10 mi sembra, o 12, forse 12, si tirano dadi da 6 oltre il sesto di un altro colore, quindi nel caso avessi 6 dadi verdi, e prendo un altro punto nell'abilità, o alzo una caratteristica che mi fa alzare l'abilità, e inizio ad avere 7 dadi, dal settimo in poi saranno di 6 di un altro colore, che cosa va a differenziare? Praticamente quando si tirano i dadi da 6, che ci sono anche i dadi ufficiali, tra l'altro se li vedete a comprare, un risultato di 6 è sempre un successo, un risultato di 1 è sempre un fallimento, un risultato da 2 a 5 è sempre un fallimento, ma che accumulando stress, con la precisione dell'arma e con altre regole, potete trasformare in un risultato, quindi usando punti stress, incrementando il vostro stress, che c'è ovviamente un tetto per i personaggi, potete trasformare quel 2 o 5, da 2 a 5, in un successo, quindi come se aveste fatto 6. Regola vuole che quando si tirano più di 6 dadi, il settimo dado, dal settimo in poi come vi ho detto, è un dado di maestria, e il dado di maestria, semplicemente quando si tira un fallimento, che è un 1, ce lo fa ritirare, però il secondo tiro poi dopo va ovviamente accettato, e se viene fuori l'1 sul dado, si può ritirare. Cosa bellina del gioco è che se io faccio 2 successi, e 2 fallimenti, cioè 2-6 e 2-1, l'azione ovviamente non è successo, niente ed è stata bloccata, però se dovessi fare, che ne so, un successo, un 6 verde, ad esempio, e 2 insuccessi, quindi magari un 6 e 2-1, l'azione non soltanto non sarà successo niente, ma ci sarà un fallimento, e quando c'è un fallimento critico, portano a conseguenze, non solo hai sparato allo zombie, ma non l'hai preso, ma magari hai colpito il compagno che era accanto, non solo la tua ammazzata in testa allo zombie, non gli ha fatto niente, ma magari la tua ammazzata si è rotta. Ed è lo stesso regolamento di zombie, sai, è uguale perché le armi quando spari devi tirare nel mucchio, o c'hai delle priorità, prima tiri a quelli più lenti, e poi tiri a quelli più veloci, quindi prima magari tiri agli abomini, e poi per ultimi tiri ai runner, e le ferite si subiscono come in zombie side normale, quindi quando i non morti ti arrivano in corpo a corpo, quanti sono? 5 dei ambulanti, quanti ce n'ho in corpo a corpo? 5, fase dei non morti, che dopo quella dei giocatori, 5 ferite, dividetevele, non c'è da tirare, non c'è da fare niente, come in zombie side normale, se ti arrivano addosso, puoi, nel caso con un'altra abilità, provare a schivare l'attacco, ma se non c'hai tale abilità, o non hai fatto tale richiesta, di tenere da parte dei punti, da spendere, per fare un'illusione, prenderai i danni. La cosa bella di questo gioco, che, secondo me la trovate interessante, questo regolamento si fonde benissimo col gioco da tavolo, cosa vuol dire? Potete usare questo, più la scatola base di zombie side, solo la scatola base, per giocarlo con le miniature, quindi per rappresentarle bene sul tavolo, fate il gioco di ruolo e ci avete le miniature, o potete giocare al gioco da tavolo e comprare questo, e perché no, durante le vostre partite di zombie side, metterci anche un dungeon master, o metterci un po' di narrazione, perché le regole di questo e di quell'altro, si vanno praticamente ad amalgamare insieme, e fanno un prodotto quasi unico. In conclusione, questo zombie side chronicles, è il GDR perfetto, per due tipi di giocatori, anzi tre, giocatori alle prime armi, o giocatori esperti, perché fa divertire chiunque, questo è un primo punto in comune, il secondo, giocatori che hanno adorato, come me e mia moglie, che fra i nostri giochi preferiti, l'ambientazione di zombie side, e giocatori che cercano un titolo zombie, però molto più scansonato fondamentalmente, cioè qui non c'è la pure dello zombie, qui c'è la ragazza con i pattini, con l'uzzi in una mano, e la katana a schiena, che gli entra nel mezzo e lo ammazza tutti, quindi è un gioco di sopravvivenza, perché dovete riparare i mezzi, farvi il vostro rifugio, mangiare e bere, però è un'ambientazione zombie da ridere, cioè non da ridere tanto, però molto più alla Left 4 Dead, cioè siamo in 4, o Back 4 Blood, siamo in 4, e ne ammazziamo 190.000, buttandoci nel mezzo con la katana, ecco, zombie side è più la versione Zeta Nation, per farvi capire, e non Sine Requie, o The Walking Dead, quindi è un gioco assolutamente consigliatissimo, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in soveimpressioni, come sempre, dalla gioco libreria Semola, nostro negozio sponsor, non solo al miglior prezzo sul mercato, ma usate sempre il codice discount, Coridan7, per avere uno scontro del 7%, e per spese superiore ai 79€, in 48 ore vi arriva a casa, isole comprese, e anche in Europa, quindi fuori Italia, in 48 ore, ordinate in 48 ore, ce l'avete, e se lo trovate nel catalogo, puntino rosso, prodotto esaurito, o nel catalogo non c'è, c'è ovviamente, però magari non lo trovate, un prodotto, mandate una mail al support, a Corrado, al proprietario della gioco libreria Semola, e ditegli, vengo dal canale di Coridan, si può avere questo gioco, che ti è finito, o non c'è proprio un catalogo, lui, se ovviamente è reperibile, farà il possibile per trovarvelo, al miglior prezzo sul mercato, e usate il codice, discount Coridan7, così anche su un prodotto, fuori catalogo, ci prendete direttamente lo sconto, fatemi sapere cosa ne pensate, e per me, è veramente, lo Zombicide, passato a gioco di ruolo, divertente per tutti, e anche per chi non ha mai provato il gioco da tavolo, è un gioco di zombie, ma molto più scansonato, non vuol dire che sia una passeggiata, perché non lo è, si muore abbastanza facilmente, però ve l'ho detto, se vi è piaciuto Zeta Nation, perfetto. ciao ragazzi, alla prossima.